Non devi affezionarti a nessuno è ciò che mi disse un mio caro amico il quale mi iniziò alla visione di Game of Thrones quando io dopo due, tre, forse quattro puntate già cominciavo a lamentare con lui al telefono che morivano i personaggi e lui mi disse, risoluto, perché un uomo brusco mi disse Antonio, allora, basta con sto pianisteo se vuoi continuare a vedere Game of Thrones c'è una sola regola, non devi affezionarti a nessuno Allora, qual è il segreto la formula della creazione di questo che secondo me è una straordinaria opera narrativa Qual è il segreto di Game of Thrones? Di serie, in qualche modo fantasy o simili ce ne sono state tante, di narrazioni di questo genere ce ne sono tantissime Il segreto di Game of Thrones secondo me può essere individuato in più di una caratteristica di questa serie ma principalmente in due il primo dei due segreti del suo successo è che il fantasy, a me non piace il fantasy già se c'è un drago no, non lo guardo è che il fantasy in Game of Thrones sia una componente potrebbe eliminare sia alla geografia del mondo narrato sia all'economia della narrazione l'elemento fantastico sta ai margini sia dal punto di vista geografico cioè i sette regni sta al di là del mare stretto i draghi stanno di là nei territori delle città libere verso l'oriente forse arriveranno riuscirà Daenerys Targaryen a attraversare il mare stretto e a portare con sé i draghi sia al di là della barriera gli estranei, gli zombie stanno di là oltre la barriera oltre il vallo di Adriano voi tutti sapete che la barriera è il vallo di Adriano e se non lo sapete andatevi a guardare cos'è il vallo di Adriano perché c'è ancora entreranno gli estranei riusciranno a attraversare la barriera i draghi arriveranno a seminare morte e distruzione forse sì, forse no ma comunque sono un elemento oltre l'imes oltre il confine del mondo conosciuto perché questo dà una straordinaria forza unica al racconto perché trasforma l'elemento fantastico in un elemento metafisico metafisico nel senso più pieno del termine non c'è solo il mondo delle cose fisiche c'è anche un al di là un oltre il posto che un tempo fu occupato dal dio dei cristiani nella narrazione plurisecolare che ci ha accompagnato la civiltà europea adesso è occupato dagli estranei e dai draghi come dimensione metafisico dentro il mondo che noi viviamo è illuminato da un piccolo cono di luce è circondato da una tenebra immensa grazie a questa liminarità dell'elemento fantastico Game of Thrones riesce a ripristinare la metafisica in un racconto popolare e non è poca cosa ciò cosa c'è dentro la solita roba it's still the same old story a fight for love and glory cantava il motivetto che accompagnò il più grande film della storia del cinema di tutti i tempi che si chiama casa blanca è la lotta per il potere sesso e denaro dentro nel piccolo cono di luce fuori la tenebra immensa e questo è bellissimo Game of Thrones ripristina gli dei la metafisica e sono gli estranei e i draghi ma per chi ha l'accortezza di lasciarli ai margini del mondo conosciuto e del mondo narrato l'altra cosa straordinaria che riesce veramente il segreto questa è una formula della creazione se voi riuscirete a fare non so cosa vogliate scrivere nella vita ma se riuscirete a fare questo Game of Thrones riesce a unire la caratteristica di due dei generi fondamentali della letteratura europea cioè dell'epica e del dramma riesce a conservare la continuità epica attraverso le discontinuità drammatiche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti